Ben tornati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. A Trapani il controllo effettuato sul territorio dai carabinieri ha portato a un arresto e due denunce. I dettagli nel servizio. I carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del XII Regimento Sicilia, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio a Trapani ed Erice. All'esito del servizio i militari hanno proceduto all'arresto di un uomo e alla denuncia di altri due soggetti. L'arrestato, un trapanese classe 79, sarebbe stato sorpreso per le vie della città dopo essere evaso senza alcun permesso dagli arresti domiciliari, misura cui era sottoposto. Un ericino di 28 anni invece è stato denunciato poiché sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all'ingestione di bevande alcoliche. Inoltre, a seguito di una perquisizione personale, sarebbe stato trovato in possesso di crack, pertanto è stato segnalato alla locale prefettura quale assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti. Denunciato anche un uomo classe 74, gravato da altri precedenti di polizia, il quale sarebbe stato sorpreso dai militari operanti alla guida di un motociclo sprovvisto di patente in quanto revocata in passato con reiterazione nel biennio. Sempre a Trapani, il questore ha emesso due d'aspo nei confronti di due giovanissimi. Vediamo perché. Nei giorni scorsi il questore di Trapani ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di altrettanti soggetti minorenni che si erano resi responsabili di gravi reati avvenuti nelle scorse settimane nel centro storico di Trapani. Nel dettaglio, i due giovani si erano resi responsabili di una violenta aggressione ai danni di due ragazzi che dopo aver trascorso la serata in un locale stavano raggiungendo la propria autovettura per rientrare a casa. In quel momento erano stati violentemente picchiati dai due minorenni che avevano tentato di rapinarli dei loro averi. La rapina era sfumata poiché le due giovani vittime erano riuscite a divincolarsi e scappare, riportando comunque importanti lesioni personali. Per tali fatti, i due sono stati già sottoposti a misura cautelare emessa dall'autorità giudiziaria minorile a seguito delle indagini della Compagnia Carabinieri di Trapani. Il divieto di accesso notificato gli impedirà ai due giovani, per un periodo di due anni, di frequentare, accedere, transitare o sostare in tutte le strade del centro storico del capoluogo, dove si svolge la cosiddetta movida. Pena la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. Restiamo nel Trapanese, ma ci spostiamo a Pantelleria, dove un 23enne è finito in manette per spaccio di stupefacenti. I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane incensurato nato a Milano ma residente sull'isola. Il ragazzo è stato notato da un militare dell'arma, libero dal servizio, in pieno centro in tarda serata, mentre si appartava a guardingo con un altro soggetto conosciuto al carabiniere, scambiandosi velocemente qualcosa. Chiesto l'ausilio della pattuglia impiegata nel controllo del territorio, il militare ha sottoposto a perquisizione domiciliare il sospettato trovandolo in possesso di un involucro termosaldato contenente 120 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un involucro contenente 110 grammi circa di marijuana, 32 grammi circa di sostanza da taglio del tipo mannite, oltre a bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi. Il 23enne è stato tratto in arresto dai carabinieri che hanno sottoposto a sequestro l'intero quantitativo di sostanza stupefacente. A seguito dell'udienza di convalida è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Un arresto per spaccio di droga è stato effettuato anche a Catania dai carabinieri. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa durante un'attività di contrasto allo smercio di droga nel quartiere Librino hanno arrestato in flagranza un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un 68enne pregiudicato catanese per evasione. Quest'ultimo, tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre scorsi, per ben due volte era già stato denunciato per il medesimo reato, venendo trovato sempre nello stesso posto. In particolare i militari dell'arma per la terza volta in pochi giorni si sono recati in Viale Nitta nel quartiere di Librino dove hanno potuto constatare come il banchetto sistemato nel sottoscala del palazzo, già utilizzato per confezionare dosi dal 19enne arrestato due volte dai carabinieri nelle ultime settimane, fosse ora gestito da un altro ragazzo impegnato nella stessa attività criminale. Un vero e proprio passaggio di testimone della postazione di lavoro strategicamente posta in corrispondenza di una finestra che, mettendo in comunicazione il sottoscala con l'esterno dell'edificio, consentiva agevolmente al pusher di turno l'effettuazione degli scambi di droga e di denaro con gli acquirenti. Il 22enne, già noto agli operanti, alla vista dei militari ha subito abbandonato il banchetto su cui erano poggiati due involucri contenenti rispettivamente 4 grammi di crack e 4 grammi di cocaina, una dose di marijuana e un bilancino elettronico di precisione, tutto sequestrato, tentando di far perdere le proprie tracce all'interno del condominio verso i piani superiori. La fuga tuttavia è durata solo alcuni minuti poiché i carabinieri, riusciti a entrare nello stabile, lo hanno individuato e bloccato sul pianerottolo del sesto piano. È scattato l'arresto anche per un 68enne pregiudicato catanese trovato per la terza volta in dieci giorni a gravitare davanti al palazzo dove è avvenuto l'arresto del 22enne, violando la misura cautelare degli arresti domiciliari a cui è sottoposto per spaccio di droga. Entrambi i soggetti, su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto, sono stati sottoposti ai domiciliari. E sempre a Catania un 34enne finito in carcere per minacce, maltrattamenti ed estorsione nei confronti dei propri genitori. La procura distrettuale della Repubblica di Catania, nell'ambito delle indagini a carico di un catanese 34enne indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei genitori, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale Etneo la misura cautelare della custodia in carcere eseguita dai carabinieri della stazione di Aci Sant'Antonio che hanno associato l'uomo presso la casa circondariale di Piazza Lanza. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati specializzati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce sulle condotte poste in essere dall'uomo che fin dall'inizio del 2020 avrebbe reiteratamente sottoposto entrambi i genitori a un vero e proprio regime di terrore, costringendoli a vivere la quotidianità in un clima vessatorio caratterizzato da offese, minacce di morte e richieste di somme di denaro. In particolare, in diverse occasioni, dopo aver assunto stupefacenti, lo stesso si sarebbe rivolto al padre e alla madre con gravi espressioni minatorie quali vi taglio la testa o vi do fuoco, passando poi purtroppo alle vie di fatto con spintoni a entrambi e schiaffi per la madre, colpevole di aver tentato di riportare il figlio alla calma. Le diverse aggressioni fisiche poste in essere dal 34enne in danno dei genitori, come pure il danneggiamento delle suppellettili, sarebbero state in realtà azioni strumentali alle richieste di denaro per importi variabili fra i 30 e i 100 euro, nella maggior parte dei casi soddisfatte dai familiari totalmente impauriti e sottomessi. Nonostante lo scorso luglio il soggetto, a seguito dell'intervento dei carabinieri su richiesta dei genitori, si fosse volontariamente allontanato dall'abitazione, il clima familiare sarebbe addirittura peggiorato poiché i due coniugi avrebbero continuato a subire incursioni notturne a casa da parte del figlio che puntualmente, dopo averli minacciati di morte, avrebbe continuato a chiedere a entrambi del denaro. Confisca beni da 50 milioni di euro a un esponente del clan mafioso Nardo Siamonell siracusano. I dettagli nel servizio. Il nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa ha dato esecuzione al provvedimento del Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, che dispone la confisca dei beni riconducibili a Filadelfo Emanuele Ruggeri, appartenente al clan mafioso Nardo. Si tratta di due terreni situati a Carlentini e del 100% delle imprese, delle quote societarie e di tutti i beni costituiti in azienda di due ditte di trasporto su gomma, entrambe con sede legale a Lentini. I predetti beni, il cui valore complessivo ammonta circa 50 milioni di euro, il 7 febbraio 2020 erano già stati sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Catania su richiesta della DDA Etnea, nell'ambito di un'attività d'indagine a carico di Ruggeri e di suoi prestanomi. L'indagine ha consentito di accertare che le attività economiche in parola, di fatto condotte sotto la gestione del detenuto Ruggeri, operavano nel lucroso settore dell'autotrasporto dell'ortofrutta per il tramite di persone a lui riconducibili, avvalendosi di modalità mafiose e garantendo così al clan ingentissimi introiti. Il provvedimento ha pienamente recepito quanto emerso dalle attività investigative che hanno dimostrato, come Ruggeri, avvalendosi della collaborazione di propri familiari e prestanome, sebbene detenuto dagli anni 90 per associazione mafiosa, per omicidi e altro, continuava a gestire di fatto l'attività del clan, in particolare attraverso le predette imprese intestate ai suoi familiari. Approfondendo i profili di riconducibilità di tali attività economiche sul piano decisionale, gestionale e degli utili, le indagini hanno chiarito che le stesse erano strumentali alle attività illecite del clan e facendo risaltare l'evidente sproporzione dei redditi dichiarati leciti dei soggetti in parola con il patrimonio accumulato e con gli investimenti operati nel tempo, hanno consentito di operare la confisca dei predetti beni. Le indagini, pertanto, hanno ulteriormente accreditato le modalità con cui l'organizzazione mafiosa di riferimento continua a esercitare il proprio incisivo potere di infiltrazione nel tessuto economico del territorio, assumendo il controllo di settori caratterizzanti dello stesso. Ci spostiamo adesso nel ragusano per la precisione a Vittoria, dove un giovane tunisino è stato accoltellato in pieno centro al culmine di una lite. I carabinieri hanno poi individuato e denunciato l'aggressore. Tutti i dettagli nel servizio. Prosegue l'attività di contrasto ai reati contro la persona del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa. In particolare, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vittoria sono intervenuti in via Cavour, in pieno centro cittadino, a seguito di una segnalazione di un giovane ragazzo di nazionalità tunisina che necessitava di cure mediche in quanto ferito gravemente alla schiena da un offendente. I carabinieri giunti sul posto hanno prestato assistenza e coadiuvato l'attività dei sanitari, che hanno poi condotto la vittima in codice rosso presso l'ospedale Guzzardi di Vittoria, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico in quanto aveva subito la perforazione del polmone e lesioni al fegato. Le indagini sono state immediatamente attivate dai carabinieri e da una iniziale ricostruzione è stato accertato che la vittima, insieme a suo fratello, era stata precedentemente coinvolta in una lite con due coetanei di nazionalità italiana, sempre in via Cavour, all'altezza dell'istituto comprensivo statale Giovanni XXIII. Durante la lite, la vittima prima era stata colpita alla schiena con un coltello, colpo sferrato da uno dei due giovani italiani e successivamente si era allontanata autonomamente dal luogo della lite, convinta di poter raggiungere a piedi il pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria. Purtroppo la gravità della ferita gli ha permesso di percorrere solo pochi metri per poi accasciarsi su una panchina in attesa di essere soccorso. Le indagini dei carabinieri sono proseguite fino in tarda serata, riuscendo a raccogliere sufficienti elementi investigativi utili per identificare l'aggressore, a carico del quale sono stati effettuati anche accertamenti presso il domicilio, ma senza rinvenire l'arma del delitto. Il giovane aggressore è stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà per lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma, ma sono tuttora in corso indagini al fine di acquisire ulteriori elementi provatori per definire sia la dinamica dell'aggressione che circostanziare l'ambito dei rapporti giovanili entro il quale la lite è degenerata ad aggressione di portata così violenta. A Gela invece la polizia ha tratto in arresto una coppia di ladri che aveva commesso diversi furti in attività commerciali. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza hanno tratto in arresto un 44enne e una 31enne, entrambi di Gela, in esecuzione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere per l'uomo e ai domiciliari per la donna, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela su richiesta della Procura della Repubblica per i reati di concorso in furto aggravato in debito utilizzo di carte di credito, ricettazione e porto di strumenti atti ad aprire e forzare serrature. Agli indagati sono contestati una serie di furti compiuti tra giugno e agosto, tutti messi a segno con le stesse modalità in danno di diverse attività commerciali. Gli indagati, dopo essersi introdotti all'interno degli esercizi commerciali, asportavano registri di cassa, computer e altro materiale. Dopo l'arresto, l'uomo è stato condotto al carcere di Gela, la donna agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, ma l'informazione prosegue su Sicilia 24. Grazie a tutti.